Sottosegretario alla salute De Filippo, a Pescara oggi vuoi parlare di medicina, di cure primarie, un argomento importante per la sanità italiana. Uno dei pilastri della sanità del nostro paese è quello di costruire esattamente una rete adeguata ai bisogni crescenti che il territorio può esprimere, facendo in modo che riusciamo a dare in prossimità del malato, dell'anziano, del paziente una risposta sanitaria ed evitando sprechi inutili che sono percorsi ospedalieri impropri, che sono il grande tema di una sanità che deve essere sempre più sostenibile in termini finanziari. Onorevole Dincecco, si parla di sanità oggi in questo convegno a Pescara, di cure primarie, si parla tanto oggi anche di tagli a livello sanitario, tutto questo come si concilia? Tagliare, a mio avviso che faccio il medico, dovrebbe significare tagliare i servizi inutili. E' proprio di questo che oggi stiamo disquisendo, perché quello che vogliamo fare è rendere i servizi più efficienti per i cittadini senza dover tagliare naturalmente i servizi necessari. L'importante è fare una buona integrazione sociosanitaria, aggregarsi tra professionisti, territorio e strutture in modo che in un approccio multidisciplinare il paziente venga preso in cura e venga accompagnato per i bisogni che ha.